Buongiorno a tutti, ci troviamo fuori dallo stadio San Siro, prima di Inter Genoa, undicesima giornata di Serie A. Inter ha la ricerca di un'ulteriore conferma dopo la striscia positiva. Affronterà un Genoa invece alla ricerca di riscatto dopo aver rimediato una sconfitta contro il Milan proprio qui a San Siro. Ora la parola vai ai tifosi. Buongiorno, un pronostico sulla partita di oggi? Io direi 1 fisso per l'Inter, penso finirà 2-0. 2-0 chi segna? Secondo me segnerà Lautaro Martinez e Gagliardini. Buongiorno, un pronostico sulla partita di oggi Inter Genoa? 0-1. 0-1? Scaramantico. Chi segna? Chi segna? Segna Alex, Pandev. Segnatelo, riordasene. Speriamo di no da interista. Speriamo di no, però è che dogo farla, se no godo di più se si vince. Esatto, esatto. Ti ringrazio, buona partita. Inter Genoa, siamo qui con dei tifosi, volete dirci la vostra risultato fisso? Io spero di una vittoria, però va bene tutto. Ovvio non perdere, però va bene. Fare punti in casa. Sì. Uguale. Chi segna? Spero Lautaro se gioca e non so. E Icardi non gioca. Ah, ok. Icardi se entra, se dovesse entrare. Vi ringrazio, ora un pronostico per Inter Genoa. Partita tiratissima, ma si vince. Si vince? Si vince, si vince. Quanto? Ma 2-0, 2-1. Ok, chi segna? Se vogliamo... Doppietta di Lautaro. Doppietta di Lautaro Martinez, grazie mille. Siamo qui fuori dallo Stadio San Siro, con due tifosi. Volete dirci il vostro pronostico, risultato fisso, come finisce oggi? Vince di Inter, mi auguro con un bel 3-1. 3-1, lei? Io dico 3-0. 3-0, volete dire anche chi segna, chi saranno i marcatori? L'Autaro segnerà senza altro. Io penso 2-0 Lautaro e poi uno così, lasciamo fare un po' a qualche difensore. Perfetto, grazie mille, buona partita. Un pronostico prima della partita? Beh, io spero sempre di vincere, però il pronostico, guarda, 2-0. 2-0 per l'Inter, ci vuoi dire anche chi segna? Icardi e Vecino. Icardi e Vecino, perfetto, grazie mille, buona partita. Dallo Stadio San Siro è tutto, Alessio Baldo per Milan Inter 24.